Una medaglia europea, una medaglia mondiale sicuramente è un bellissimo valore, ma la pataglia olimpica è qualcosa di indescrivibile, il sogno olimpico è il sogno di ogni atleta. Buongiorno, sono Fabrizio Donato, un atleta delle fiamme gialle e pratico un'atleta leggera, specialità al salto triplo. Partecipare alle Olimpiadi è la massima espressione che un atleta può raggiungere, io ho partecipato alle Olimpiadi, Sydney, Atene e Pechino. Certo, come si dice spesso, l'appetit viene mangiando, prima la massima espressione era partecipare alle Olimpiadi e adesso la soglia si è un pochino alzata, quindi non è più partecipare alle Olimpiadi, ma bensì partecipare alle Olimpiadi da protagonista. Nei periodi più lontani dalla competizione utilizziamo molto spesso una grande varietà di superfici sulla quale eseguire comunque anche esercizi ad alto carattere di specificità, perché dal punto di vista dei meccanismi energetici ci possa essere uno sviluppo quanto più possibile equilibrato. In atletica siamo tanti, siamo tantissimi paesi partecipanti e la concorrenza è molto ampia e molto agguerrita. È molto difficile quindi raggiungere questo obiettivo, però non crediamo molti dei nostri mezzi, stiamo lavorando bene, consapevoli della nostra potenziale e con la speranza di poter dire la nostra alle Olimpiadi di Londra. Grazie a tutti!